Salve a tutti ragazzi sono ZetaWheelix e oggi abbiamo un nuovo evento della settimana su GTA Online Oltre a questo la Rockstar ha anche deciso di rilasciare una nuova modalità competizione di nome piede in fallo Che avrà bonus doppio guadagno di dollari d'RP fino alla mattina di martedì 22 maggio Data in cui uscirà anche la Jester Classic, la Cabo Wreck e la Micheli GT che sarà la prima Alfa Romeo di GTA V In questa modalità di nome piede in fallo praticamente ci sono dalle 2 alle 4 squadre E i giocatori devono cercare di sopravvivere e rimanere sopra una determinata piattaforma Prima che il gioco elimini la parte rossa della mappa allo scadere del timer che potete vedere in alto al centro sullo schermo E questo timer piano piano cancellerà qualsiasi pezzo della mappa fino ad eliminare completamente tutto Ovviamente vince la squadra che riuscirà a sopravvivere sopra la piattaforma prima dell'altra squadra Onestamente non è una modalità che mi fa impazzire, non è chissà cosa A discapito di Vespucci Job che veramente ragazzi ci ho passato tantissime ore in quella modalità perché è troppo bella A differenza di questa che oltretutto non paga nemmeno molto bene neanche col doppio guadagno Infatti non ci farò un gameplay sopra perché diciamo che è una roba già rivista con qualche modifica in più alla modalità Vi consiglio comunque di farci una o due partite giusto per provare qualcosa di nuovo E fatemi sapere tra i commenti cosa ne pensate A me sinceramente, a me sinceramente non è piaciuta così tanto Se gli dovessi dare un voto da 1 a 10 gli darei tipo 5 e mezzo Comunque il video non si basa principalmente su questa modalità Ma sui bonus doppio guadagno di dollari ed rp di questa settimana Perché abbiamo un bonus doppio guadagno assurdo Oltre al bonus doppio guadagno su questa modalità I bonus doppio guadagno veramente importanti di questa settimana sono Le missioni vendita dell'hangar Dove potete arrivare a fare fino a 1.700.000 dollari con 50 casse di narcotici Più chiaramente una percentuale che aumenta rispetto a quanti siete nella sessione E al tempo stesso abbiamo anche il doppio guadagno di soldi su tutte le attività di droga degli stabilimenti dell'MC E con uno stabilimento cocaina potenziato e rifornito al massimo Potete fare fino a 840.000 dollari Per un totale di 2.540.000 dollari Più una percentuale di guadagno maggiore Se siete in una sessione pubblica con tanti giocatori E questo totale vale se avete fatto sia la missione vendita dell'hangar con 50 casse di narcotici Che la missione vendita dello stabilimento cocaina potenziato e rifornito al massimo Se avete sia l'hangar che lo stabilimento cocaina potenziato Approfittate assolutamente di questo evento perché si fanno veramente un mucchio di soldi ragazzi Ma solo questa settimana se è chiaro Vi lascerò la guida sia per fare i soldi con l'hangar che con lo stabilimento cocaina dell'MC Nella descrizione di questo video Approfittatene perché è un bonus doppio guadagno davvero pazzesco E i soldi per aver fatto accesso dall'8 maggio fino ad oggi Arriveranno sul vostro conto in banca questa settimana Tra diciamo il 16 e il 21 maggio Comunque non vi preoccupate che arriveranno sicuramente Riguardo gli sconti della settimana Quelli che personalmente consiglio sono Il 40% sull'Hydra Il 25% sulla sportiva Hot Ring Sabre Il 25% sulla GB200 Il 25% sulla Visoris Che consiglio di comprare se ancora non avete una sportiva classica Il 25% di sconto su tutti i fucili d'assalto Fucili da cecchino, fucile a pompa E tutte le munizioni di qualsiasi arma Sia normale che MK2 Infine gli sconti segreti che possono ottenere solo una parte dei giocatori di GTA Online Sono il 40% di sconto sul car armato Il 30% di sconto sulla cagata dell'RCV E il 30% di sconto sul Chernobog Personalmente però sconsiglio tutti gli sconti segreti di questa settimana Dato che secondo me fanno abbastanza cagare Poi come si fa a mettere il 40% di sconto sul car armato Se oggi abbiamo il cangiali Non fraintendetemi il car armato è una bomba Ma ormai secondo me è un oggetto antiquariato Rispetto a tutta la tecnologia che abbiamo in GTA Online Ecco Quindi niente ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Se è così mi raccomando Lasciate un bel pollicione in su Fatemi sapere cosa ne pensate di questa nuova modalità Tra i commenti Da Zwillix è tutto Noi ci sentiamo al prossimo video